buongiorno ragazzi benvenuti o bentornati sul canale oggi facciamo un video di unboxing ho ordinato diverse cosine ovviamente come sempre capita nel periodo invernale ci si studia un po si pianifica la stagione che verrà ancora fa molto freddo quindi si gira veramente poco soprattutto al nord italia con ghiaccio a terra ma proprio per questo ho pensato di adottare soluzioni di sicurezza moto non personale ma della moto per eventuali scivolate su asfalto o guida in sterrato con una moto come la mia tiger 1200 rally pro molto pesante che capace di andare anche in sterrati impegnativi con il 21 anteriore e buona escursione di sospensioni ma che ovviamente può capitare di sdraiare su asfalto o su sterrato quindi le soluzioni da adottare che mi vengono in mente che vi riporto sul canale che vi consiglio sono di mettere dei paramani molto robusti in questo caso ho acquistato dei bark buster e si presentano così ragazzi questa è diciamo la schermatura di quello che è poi il paramani visivo visivamente all'interno c'è anche un pannellino nero scuro regolabile su due posizioni se si vuole ampliare la copertura aerodinamica o diminuire li ho presi bianchi perché la mia rally pro ha i fianchetti bianchi quindi penso stiano bene ci arriva completo di tutto le viti e le istruzioni di montaggio e il telaio che li supporta come vedete è un telaio in alluminio in acciaio credo sia la componente precisa non la so sicuramente sarà una lega di alluminio acciaio perché sono abbastanza leggeri ma molto 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 resistenti e questi salvano in caso di appoggio la moto le leve freno e insieme ai telai paramotore possono proteggere la moto le frecce diciamo tutta la parte della carena quindi li reputo fondamentali per l'utilizzo magari su qualche sterrato strada bianca ma anche una scivolata su asfalto ovviamente arriva come vi dicevo tutta la bulloneria e quindi adesso andremo a vedere come montarli un altro accorgimento che vi farò vedere nei prossimi giorni che riguarda la parte posteriore della moto perché qui parliamo dei paramani quindi la parte anteriore insieme ovviamente ai telai paramotore e alle due borse che ho messo sui telai paramotore per attutire eventuali appoggi nella parte posteriore della moto ho pensato di sostituire quando so che magari vado a fare strade più impegnative sterrate le borse in alluminio laterali che costano molto e che se si danneggiano è una bella spesa quindi togliendo quelle borse rimangono i telaietti portaborse in alluminio al quale si può montare una borsa morbida che ho acquistato in questi giorni ho trovato un grosso sconto su mototea e ho preso queste borse che quando arriveranno non sono ancora arrivate farò un altro video dedicato ma che ammorbidiscono diciamo sui telaietti delle borse posteriori l'appoggio ti possono salvare tutta la parte posteriore della moto magari mettendo dentro una tuta antipioggia morbida e leggera sicuramente sono più indicate per un utilizzo offroad perché donano leggerezza morbidità e in caso di appoggio ti salvano tutta la parte posteriore della moto quindi all'anteriore leve paramani in acciaio alluminio e barre paramotore con le due borse anteriori e le due borse morbide al posteriore in questo modo in caso di scivolato in caso di appoggio la moto dovrebbe essere protetta più del 80 per cento quindi poi faremo un video dedicato anche per quanto riguarda queste borse morbide vi farò vedere che marca sono come si montano e che caratteristiche hanno ma in questo caso andiamo a vedere i bark buster un altro acquisto che non c'entra niente con la sicurezza in moto ma che ho fatto in questi giorni è questa asta per fare riprese completamente in carbonio molto bella allungabile fino a tre metri ragazzi quindi vedremo un effetto drone con un montaggio in tutta sicurezza perché attraverso questa doppia morsa legherò questa barra al telaio laterale con due punti di appoggio quindi due fulcri sulla barra dovrebbe avere una grossissima stabilità e sicurezza ovviamente il carbonio è leggero e resistente e anche se non si allunga non si decide di allungarlo tutti e tre i metri perché potrebbe essere pericoloso durante la marcia dona una buona sicurezza e un'ottima soluzione di ripresa in moto anche questa quando la monto magari vi faccio vedere come l'attacco ma adesso andiamo a vedere i bark buster bark buster ragazzi andiamo al montaggio allora ci sono queste due componenti per iniziare la fase di assemblaggio regolabile ci sono delle sezioni e si può praticamente alloggiare o basso o più alto il risultato più alto ovviamente magari per coprire di più in inverno guardate sempre anche la visuale che poi ottiene la moto perché adesso io per esempio le ho provate ad appoggiare e con il la posizione più alta diciamo è molto grande non mi piace l'effetto visivo quindi io le monterò nella posizione più bassa in questo modo ci sono delle viti in dotazione che adesso vado ad assemblare allora puntiamo le viti modalità bassa il risultato finale è questo qua questo è nel livello più basso si può alzare di circa un centimetro l'asola serve un cacciavite a stella e andiamo a stringere entrambi i punti di fissaggio 1 e 2 questo è l'altro è indicato nella manopola left e right sono costruiti in austria made in austria ovviamente questa è plastica ragazzi bisogna fare attenzione anche nel serraggio non esagerare ma stringere a sufficienza per le vibrazioni e wallah procediamo allo smontaggio adesso dei paramani per andare ad ancorare i diciamo le barre in lega di alluminio acciaio vera e propria insieme ai paramani riceviamo questa scheda indicativa con i pezzi che ci sono all'interno del prodotto e li metodi di assemblaggio bisogna ovviamente svitare gli specchietti e il punto di ancoraggio esistente e poi andare a comporre questa attrezzatura procediamo allora l'assemblaggio del collettore che va attaccarsi sul manubrio è questo con una vite centrale a dado servono delle chiavi inglese una misura 14 allarme che suona finito e una misura 10 e poi delle brugole di varie misure adesso vi vado a dire le misure questo si attacca così alla staffa lo avvitiamo e poi dopo andremo a serrare il tutto ok appoggio un attimo e cerco la misura della brugola allora vediamo se è questa no è questa dovrebbe essere una 8 qua non ci sono scritte le misure comunque bisogna avere delle brugole chiamo di stringere un attimino giusto per non farlo muovere è la stessa che va qua si ok con una brugola fate tutte e due questi serraggi della stessa misura ok poi vediamo come più o meno verrà per non rigare il manubrio adesso io utilizzerò una di queste queste qui diciamo che sono delle gomme da manubrio per ciclista per non rigare il manubrio bisogna prendere la misura che adesso è ancora troppo vicina devo allontanarmi un po proviamo così ok così più o meno ci siamo prima di tutto vado a fissarla qua e poi la regoliamo da quell'altra parte quindi qua si va a fissare con gli appositi contrappesi ce ne sono due all'interno adesso li apriamo e li avvito messo il contrappeso con una brugola più piccola andiamo a stringere leggermente poi andremo a fissare lo incliniamo a piacimento e fissiamo questa parte giusto per poter lavorare su questo che è un po più complesso da fissare ovviamente vi consiglio di mettere questi gommini perché sennò rigate il manubrio ok questi fili disturbano un po ma si schiacciano tranquillamente poi dopo andiamo a serrare tutto quindi vite e dado sempre a brugola con un bullone da 10 questo è il cambio di brugola ci vuole quella più grande ok considerate che la tiger ha un manubrio da 2 che si allarga nella parte centrale quindi da 2 arriva a 3 e mezzo 3 8 ma l'adattatore sembra funzionare vediamo se prende la vite sotto allora qua bisogna stare attenti a non farla cadere dentro la moto mi tiro le maniche perché sennò graffiamo tutto ok cerco di puntarla perfetto la tiriamo un attimo ok finché non vuole la chiave perfetto l'abbiamo puntata ok ragazzi sta prendendo forma vitine più piccoline le inseriamo davanti al blackbuster negli appositi alloggi per fissare la parte di plastica alla parte di acciaio in lega d'alluminio devo dire che sono abbastanza pesanti e molto massicce le barkbuster ci sono anche gli acerbis che per esempio ha montato Mirko sulla sua tenerea che sono leggermente più leggeri più o meno la sostanza è la stessa però con queste vitine praticamente si assicura la parte di plastica alla parte di metallo le stringiamo a sufficienza per le vibrazioni ok un paio di giri ancora gira gira ok riprendiamo anche questa perfetto ragazzi questo è l'effetto visivo della prima parte di barkbuster andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte guardate la differenza grazie a tutti grazie a tutti ragazzi incontro luce abbiamo finito tardissimo ci aveva messo due ore spero che si sia capito più o meno come montare i barkbuster non è facilissimo fatevi aiutare almeno due persone ci vogliono soprattutto per lo smontaggio degli specchietti però il risultato è eccezionale e poi la vedrete in giro insieme al Mirko con la sua Touareg a presto ragazzi al prossimo video ciao 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 supra Grazie.